Con questa spigolatura vi accompagniamo a Mondonico, oggi frazione di Olgiate-Molgora, provincia di Lecco, luogo frequentato da artisti come Emilio Gola, sindaco del paese che qui aveva il suo studio e la sua villa, un luogo a meno che merita di essere visitato. In verità, Mondonico per molti secoli e fino alla riforma comunale fascista del 1927 fu un comune autonomo da Olgiate, già citato come loco da Mondonego, ovvero comunità tributaria nello Statuto delle Strade di Milano nel 1346. Tuttavia, la prima citazione del nucleo è di qualche decennio più antica e contenuta nel celebre Liber Notizie Sanctorum Mediolani, un elenco di chiese e di Altari della Diocese di Milano, redatta dal sacerdote Goffredo da Bussero nel 1289. Così scrisse Goffredo, in Montedonego ecclesia sanctiblasi dicte plebis, ovvero chiesa di San Biagio nella pieve suddetta. La frase precedente chiarisce quale pieve perché cita la chiesa dei Santi Ambrogio e Biagio di Merate. La citazione mondonicana riguarda però l'antica chiesa di San Biagio, da non confondersi con l'attuale chiesa, posta su un delizioso poggio all'ingresso del paese, salendo da Olgiate e Molgora, da Via Buttero e quindi da Via Mondonico. La chiesa di cui stiamo parlando è invece quella fatta demolire, in quanto pericolante, da San Carlo Borromeo nel 1570 e situata nella zona monte del paese, lungo i sentieri che portano verso il San Genesio. Nei pressi sorse la cappelletta dei morti di peste, chiamata non a caso i morti di San Biagio, ancora oggi esistente non lontano da una delle due cascine Caglianelli. In realtà, Goffredo da Bussero cita in loco Montedonego non una, bensì due chiese in due punti diversi del suo manoscritto, ovvero Ecclesia Sancte Agate, ovvero chiesa di Sant'Agata in loco Montedonego di Brivio. Beh, nessun dubbio che sia il nostro Mondonico, che nel 1289 era infatti territorio della pieve e della parrocchia di Brivio. Come abbiamo già spiegato nella spigolatura 15 e nella 16, dedicate alla propagazione dell'ordine degli umiliati nel territorio della Brianza Lecchese e nel Monzese, l'intitolazione ai due Santi, Biagio e Agata, è da ricollegarsi all'attività principale che si svolgeva nelle tante domus briantine degli umiliati, ossia la cardatura, la filatura, la tessitura e la tintura della lana, che veniva poi venduta nelle piazze principali di Monzera e di Milano. Nel Medioevo San Biagio divenne infatti patrono dei lanaioli, perché prima del martirio fu sottoposto ad atroci torture con un pettine chiodato come quelli usati per la cardatura della lana. Questo pettine lo ritroviamo proprio accanto al San Biagio frescato nella cappelletta dei morti di San Biagio sopra Mondonico, come vedete in questa immagine. L'intitolazione a Sant'Agata, forse, si ricollega invece al ricco santorale femminile degli umiliati, facilmente spiegabile col fatto che molte delle case umiliate in Brianza erano in realtà composte o di sole donne, o di donne amministrate da confratelli. Le prime erano dedicate alla lavorazione della lana e i confratelli alla commercializzazione dei filati e dei tessuti realizzati dalle consorelle. Ma nel caso specifico di Mondonico, la fantomatica chiesa di Sant'Agata potrebbe però avere un'origine slegata dalla lana. Infatti, in un elenco di Hospitales della Diogese di Milano del 1398, poi dismessi con la costruzione dall'ospedale maggiore di Milano del 1456, che ne incamerò tutti i beni, compare un Hospitalis Sancte Agate de Mondonego. Un'avvertenza. Il termine Hospitalis, come già spiegato in altri video, non corrisponde al moderno significato di ospedale. Si tratta di strutture in cui venivano accolti soprattutto viandanti in cerca di un pasto e di un letto per la notte e che potevano ricevere anche qualche semplice cura medica. Hospitalis deriva dal latino hospes, ospite, e da hospitalis deriva anche il francese hotel e l'italiano ostello. Potremmo chiamarlo simpaticamente l'hotel di Sant'Agata Mondonico, quindi. Al momento non vi sono altri documenti, oltre a quello del 1398, che comprovino esplicitamente l'esistenza di questo fantomatico ospitale. Ma due strani dipinti, ancora visibili in paese. Alcuni documenti datati 1416, 1418 e 1567. e una leggenda nera potrebbe rogettare una piccola luce per risolvere l'enigma. Il primo soggetto dipinto si può vedere sotto il portone di Mondonico, salendo al culmine di via Molgoretta e immediatamente prima di imboccare a destra via Emilio Gola, e si tratta dello stemma mai identificato che campeggia sopra la porta e la volta in mattoni visibili in questa foto. Il muro, la porta, la volta e lo stemma, ci parlano, per così dire, di epoche diverse, remote. Osserviamo infatti la foto. La porta e i due scalini non sono centrati rispetto alla volta in mattoni. Segno che quest'ultima è verosimilmente precedente. Inoltre lo stemma è coperto in parte dalla volta stessa, segno che lo stemma è più antico e non è stato visto da chi realizzò la volta in mattoni. Infine, la parte di muro contenente la porta, la volta, i mattoni e lo stemma non è in asse con la parte restante del muro esterno, in direzione nord. Concentriamoci ora sullo stemma. Ma cosa rappresenta? A quale famiglia o ente può essere collegato? Potrebbe rappresentare una ruota a quattro raggi, in tal caso riconducibile alla famiglia Ro, grande possessore di edifici e terreni all'epoca del cardinale San Carlo Borromeo, tanto da essere citata nello status animarum di Mondonico del 1574. Ma lo stemma dei Ro ha una differenza rispetto allo stemma mondonicano. I raggi della ruota sono ben otto e non quattro, e la ruota è sormontata dall'aquila imperiale. Inoltre i Ro avevano residenza altrove, ossia in Villa Maria, alla squadra di Mondonico. Più probabile, invece, che lo stemma mondonicano riproduca in realtà una croce patente, ovvero quei quattro raggi che si allargano allontanandosi dal centro. È una tipologia di croce molto diffusa nel Medioevo e soprattutto presente negli stemmi di tanti ordini ospedalieri militari, fondati all'epoca delle Crociate, per esempio. Si veda, come esempio per tutti, la croce dell'Ordine dei Cavalieri di Malta. È una croce patente, bianca in questo caso, su Campo Rosso. Primo ordine militare ospedaliero fu quello degli Antoniani, ovvero i canonici regolari di Sant'Antonio di Vienne, città francese nel Delfinato, dove sorse il primo ospedale dell'Ordine, con regola approvata da Papa Urbano II nel 1095. La scelta non era casuale, perché nella locale abbazia erano custodite le spoglie di Sant'Antonio Abate, dono dell'imperatore di Costantinopoli a un nobile francese di ritorno da un pellegrinaggio in terra santa. Nel 400 gli Antoniani conobbero la loro massima espansione in Europa, dove si contavano circa 370 ospedali da loro fondati o gestiti. La ragione del loro successo, soprattutto nelle aree rurali, è dovuta al fatto che essi divennero famosi per la cura del cosiddetto fuoco di Sant'Antonio. Sotto questa denominazione vi erano in realtà due patologie distinte, ovvero l'herpes zoster, causato da una variante del virus della varicella e conseguenza di cattiva alimentazione nella fascia povera della popolazione rurale, e l'ergotismo, un parassita delle segale, cereale che nel Medioevo sostituiva spesso il grano nella preparazione del pane, data la sua resistenza a clima rigidi e a terreni poveri e aridi. L'ergotismo provocava nei soggetti colpiti violente convulsioni e allucinazioni, oppure cancrena degli arti, mentre l'herpes zoster provocava dolorosissime eruzioni cutanee. Cancrene ed eruzioni cutanee venivano curate con grasso di maiale, al solo scopo di lenire il dolore. Per questo in Lombardia si parla di Sant'Antonio Abate come Sant'Antoni del Purcell, a ricordo di questo medicamento del fuoco di Sant'Antonio. A Milano i canonici antoniani avevano il loro quartier generale presso la chiesa di Sant'Antonio Abate, odierna via Sant'Antonio, edificata dopo il 1272 come complesso conventuale ospedaliero, per la cura dei pellegrini. La chiesa era anche chiamata San Nazaro dei Porci, perché in precedenza nei pressi era un ospedale per pellegrini, denominati San Nazaro. Fondato da Ruggero di Cerro nel 1127, i visconti donarono al convento numerosi spossedimenti, già parte dei terreni ducali che si estendevano a sud di Via Larga. Curiosamente anche il culto di Sant'Agata si collega al fuoco, tanto da farne la patrona dei pompieri. Tale culto deriva dal fatto che alla giovane catanese Agata, che rifiutava di abbiurare la fede cristiana, furono asportati i seni con ferri roventi, tortura a cui sopravvisse in seguito a una visione divina. In seguito fu ordinato che venisse bruciata viva, ma un terremoto impedì l'atroce esecuzione. Dunque, il fuoco come elemento in comune tra i due santi Agata e Antonio? Abbiamo già detto della fantomatica chiesa di Sant'Agata nel 1289 e dell'altrettanto misterioso ospitale di Sant'Agata di Mondonico nel 1398, ma non è tutto. Alcuni documenti, predati tra il 1400 e il 1418, ci informano che alcuni terreni e case di Mondonico facevano parte della dote del neonato oratorio di Sant'Antonio Abate in Brivio. Ma chi fece edificare la chiesa di Brivio? Il nobile Antonio Vimercati, lo stesso proprietario dei beni di Mondonico. In base alla descrizione dei confini dei terreni, probabilmente questi si trovavano lungo via Molgoretta, appena a sud del portone con lo stemma. Ancora oggi, negli anziani del luogo, c'è la misteriosa memoria che alcuni edifici di via Molgoretta ospitassero un monastero. E si affermano che gli edifici del lato occidentale hanno strutture molto strane, che ricordano appunto un convento. Lo stesso accesso con lo stemma è compatibile con una struttura conventuale. Negli atti della sua visita pastorale, padre Leonetto Clivone, speciale visitatore per conto di San Carlo nel 1567, leggiamo una notizia sorprendente. Egli scrive che a Mondonico vi è una chiesa ormai cadente dedicata proprio a Sant'Antonio Abate e detta Campestre. La chiesa era dunque all'esterno del nucleo obitato. Essa era di proprietà di Battista Perego, presidente a Olgiate Vecchio, la corte rurale presso l'attuale Villa Sommi Picenardi. Parlavamo prima di una leggenda nera che è ancora viva a Mondonico. Si tratta di una tradizione popolare, secondo cui nella stretta di Dio Emilio Gola vi sarebbe una sorta di maledizione sulla casa numero civico 12. Si tratta dell'edificio che sta sotto la costa del monte e a fianco del riale, il torrente che un tempo scorreva a cielo aperto, oggi interrato, e che comunque ancora scorre nella tombinatura al centro della via. La casa è riconoscibile per la posizione isolata e per la tinteggiatura esterna gialla e bianca. La maledizione della casa sarebbe legata al fatto di aver voluto costruire un edificio sull'area dove un tempo vi era una chiesa. Anche la memoria popolare dei mondonicani ricorda che un tempo al posto della casa c'era appunto una chiesa. Era qui la chiesa di Sant'Antonio? Ed era pure qui la chiesa di Sant'Agata? Di fronte a questo edificio si accede alla Cour del Mouron, così chiamata dal gesso che sta al centro della corte stessa. Volgiamo lo sguardo alla parete nord della corte e lì scorgiamo appunto un affresco ormai consunto dal tempo e dall'incuria umana. Osservando l'affresco riconosciamo con fatica una Madonna in trono intenta ad allattare il bambino Gesù. È la cosiddetta Madonna del latte, iconografia messa al bando da San Carlo Borromeo, che riteneva l'esposizione del seno di Maria un fatto scandaloso. Inoltre San Carlo criticava le pratiche superstiziose che si sviluppavano attorno a queste immagini, promosse dalle madri che avevano poco latte con cui far crescere i neonati. A fianco della Madonna è un santo maschile, di difficile identificazione. Il muro su cui vediamo l'affresco è di fattura relativamente recente. Dunque la collocazione originaria dell'affresco non era certamente quella, ma qui deve essere stato trasportato in seguito a uno strappo, forse per salvarlo da una precedente demolizione. Quali ipotesi possiamo formulare in base agli elementi in nostro possesso? Sappiamo che sicuramente nella Mondonico del Basso Medioevo dovevano esserci una casa umiliata, dedita alla lavorazione della lana, una chiesa di San Biagio, patrono dei Lanaioli, e un ospitale per malati e viandanti dedicato a Sant'Agata. Queste strutture sono testimoniate nel 1289, mentre Sant'Agata anche nel 1398. Nel 1400 un vimmercati fonda la chiesa di Sant'Antonio Abate di Bribbio e negli stessi anni dona a quella chiesa diversi terreni e case che si trovano a Mondonico, in particolare lungo via Molgoretta, appena a sud dell'arco di accesso al paese. Potrebbe essere che la chiesa di Sant'Agata con i suoi beni furono acquisiti dai vimmercati di Bribbio? E gli potrebbe aver semplicemente reintitolato al santo, suo omonimo, la chiesa di Sant'Agata, che divenne così la chiesa campestre di Sant'Antonio, fatta poi demolire da San Carlo. Alla demolizione potrebbe essere sfuggito l'affresco della Cour del Muron, salvato per motivi devozionali collegati al culto della Madonna del Latte. Si tratta ovviamente di supposizioni, in attesa di conferme archivistiche o archeologiche. Prendetele come tali, amici del Bruco. Chissà se sapremo mai svelare il mistero. Nel Catastro di Mondonico del 1670, il più antico in nostro possesso, non esistono nomi di campi che ricordino Sant'Antonio o Sant'Agata. Tutto già dimenticato dagli abitanti. Eppure il fascino misterioso di questa storia e il piacere di condividere con voi la nostra passione per la ricerca era troppo forte per lasciarvela nascosta. Alla prossima, amici del Bruco. Grazie. Grazie.